Un intervento lungo e articolato, quello del Capo dello Stato, Nadia Zikoski, in diretta dal Quirinale. Sì, questo appello era soltanto un passaggio dell'intervento che Mattarella ha fatto davanti alla platea virtuale del Lanci e facendo sua la definizione dei sindaci quali sentinelle della coesione. Lo dicevate, ha fatto di nuovo un forte, fortissimo appello alla collaborazione tra le istituzioni. Attenzione è stato l'avvertimento a non cadere nella tentazione di scaricare su altri le decisioni più difficili. Guardate che i cittadini sanno apprezzare chi sa assumersi le proprie responsabilità. Quest'esperienza sta cambiando molto le nostre società e il ragionamento che ha proposto Mattarella. Dobbiamo essere protagonisti del cambiamento, non succubi. È l'occasione per pensare un nuovo modello sociale, un nuovo modello produttivo, per pensare che tutti possano avere l'accesso al digitale, per riprogettare anche i nostri tempi di vita che in fondo sono cambiamenti. Grazie per la visione!